Il segretario Dem. Lo stiamo facendo per il bene del paese. E rivendica il DDL ZAN. Voluto fin dall'inizio, è un provvedimento dovuto. Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta chiude definitivamente le porte a un'esperienza di governo con Matteo Salvini e la Lega. Non voglio più trovarmi nella condizione di governo che preveda un'alleanza del genere. Una volta l'abbiamo fatto, non lo faremo mai più. Afferma il segretario Dem a la presentazione del suo libro Anima e Cacciavite. Per ricostruire l'Italia. E aggiunge. Lo stiamo facendo perché è una situazione eccezionale e perché il paese lo chiede in questo momento. Non vogliamo consegnare l'Italia a Salvini e Meloni. DDL ZAN. Un provvedimento dovuto Letta è tornato ad affrontare il tema del decreto legge contro l'omotransfobia. Definendolo un atto dovuto. Che il nostro partito ha fortemente voluto fin dall'inizio e su cui il nostro paese è in ritardo. Il segretario Dem ha indicato il Parlamento come luogo del confronto naturale e per definizione. Ma ha anche fatto presente di non credere all'offerta di confronto avanzata dal leader leghista Salvini. Perché su questo tema ha praticato ostruzionismo e ha affossato l'idea stessa della discussione. Sui migranti politica ferma ad anni fa l'Europa è cambiata molto in questi anni. Abbiamo fatto il Next Generation EU. Ma sulle politiche migratorie siamo fermi a sette anni fa. Questa l'accusa del segretario Letta che, riferendosi al Consiglio europeo in corso, ha aggiunto. Domani mi aspetto e spero che esca un messaggio forte sulla creazione di una politica migratoria europea. Che renda possibile le migrazioni legali.